Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo nuovo vlog Diciamo che questo video non so se era il primo o il secondo che vedrete Però oggi andiamo a forze i marmi, un po' fuori regione Un giretto a base, sono 10 e mezza di mattina Orario a qui non mi sono mai svegliato io Cioè 10 e mezza per me è mattina prestissimo Però ora andiamo a incontrare gli altri E nulla Vediamo un po' Mamma mia, il sound, il casino, il bordello, il baccana Allora io devo arrivare da Tamil Quindi mi conviene girare qua a sinistra Vabbè le parti noiosi dove cerco di capire dove sono ve le devo Abbiamo fatto il risultamento, aspettiamo quell'altro gruppo di pazzi sgravi 2 ore later C'è vento, io non mi sono chiuso di tutto Tiro la giacca Ok Aspettiamo gli altri C'è un po' di Un po' di Roba Quei l'allenato sono lenti Lo so che mi hanno fatto pure uscire la benzina dagli schiavi Mortacci loro Sono chiuse le tasche? Non fare sorpassi No io sono bravo No Bene Vabbè è quello lì Arriva quello lì che fa rumore E' un pazzo Vabbè arriva Andiamo per il piano L'ambianza Se non ci siamo fermati io vorrei Allora devi far vedere se non è arrivato Però posso far vedere tu in mezzo Perché è una roba bellissima Sono in una statia Sì E mi si è pure spaccato perché sono finito per terra No E vabbè Ma sei qua tutto No ero qui Stava scopitando lo scarico perché ovviamente No Mi sono fermato in folle Entrata la marcia è partita ed è finita per terra No Andiamo Elia Sbrigati che c'è l'autobus Elia Elia muovi il culo Ciao 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 Ma ragazzi ci sono le buche che so C'è La roba è più figa Più grande Che bello Il cagnolone Un po' di traffico C'è Giusto un po' No Oddio Oddio Che figo Oddio Oddio Dai Tu ti fa danni Nicola Dani No fermo Colpito Dai su Questo cibito Mamma mia Te la metto incinta Te la raccolgo io Vuoi sposarmi? Sì Io ci stavo pensando Ma qua c'è una strada assurda C'è una strada bellissima In un posto è venato bene Però vabbè Oddio Questa Ma questa Dove cazzo viene Braccia Cazzo 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 Ma fermati? Ciao a tutti Perfetto Suscica Casa dolce casa Ma è casista Casa su posto Eh? Casa su posto C'è Ci fermiamo là Ci fai attiva Ah, è vero! Qua si può girare a destra, si può girare, no, non si può girare, eh, di qua si può girare, non è attiva l'acetocchiere, non è attiva, ah, a me pensavo se, preghiamo, io dico, si prega, eh, non è attiva, ma se poi si attiva? No, dici no? No, te arriveranno solo 500 euro di conto, eh, appunto! No, tutti, tutti i sociali, vi si è messi tuttina giù in culo, bastardi, vai, mi è vicino io, dove vai? Via, andiamo, è più meglio, ok, bene, la ZTL non è attiva, non può far niente, beh, spero! Sì, sì, sì! Grazie a tutti Grazie 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 Grazie